Incidente mortale sabato notte sulla provinciale Ragusa Santa Croce a perdere la vita un ragusano di 35 anni Angelo Bellia originario di Licata con la gip si è scantato contro un muro. Un minore nel rumeno arrestato dai carabinieri a Comiso e la ragazza è accusato di fare parte della banda sgominata nel gennaio scorso dai militari d'allarme ai furti nelle scuole cittadine. L'ordinanza di chiuso del mercatino del sabato è stata rispettata così il sindaco di Vittorio Nicosia all'indomani della querelle che ha visto sabato scorso la struttura con i cancelli chiusi. Allarme randagismo a Vittorio Scoglietta a rilanciare l'allarme stavolta il Movimento 5 Stelle che gradirebbe una città più sicura e cittadini e turisti liberi di poter passeggiare senza preoccupazioni. Ancora una domenica di protesta la terza consecutiva per il residente di Passo Marinare e Branco Piccolo. Al centro della contestazione, come sempre, le condizioni in cui versano le due aree. Benvenuto un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Incidente mortale, l'ennesimo sulle strade ragusane. Sabato sera a perdere la vita sulla provinciale che collega Ragusa Santa Croce, Angelo Bellia, 35 anni, ragusano ma originario di Licata. L'uomo che viaggiava sulla sua jeep ha perso il controllo del mezzo dopo una curva e si è scantato contro il muro di un'abitazione. Ancora sangue sulle strade ible a perdere la vita. Sabato notte, Angelo Bellia, 35 anni, nato a Licata ma da qualche tempo residente a Ragusa dove lavorava. L'uomo viaggiava sulla sua jeep lungo la provinciale 60, la Ragusa Santa Croce, in direzione Santa Croce. Quando, all'altezza di contrada Mendolilli, nell'affrontare una curva a sinistra è finito fuori strada andandosi a schiantare contro il muro di cinta di un'abitazione. A chiamare il 118 alcuni automobilisti di passaggio e di residenti della zona. I soccorsi però si sono rilevati inutili e il medico a bordo dell'ambulanza non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'automobilista causato da un gravissimo trauma toracico. I rilievi sono stati effettuati dalla polsada che deve accertare l'esatta dinamica dell'incidente mortale autonomo. Reste da capire infatti se mentre stava facendo rientro a casa l'uomo si è stato vittima di un malore o di un colpo di sonno fatale. Oppure se si sia trattato di un guasto meccanico del veicolo che come da prassi in casi del genere è stato posto sotto sequestro. Al momento comunque nessuna ipotesi è stata esclusa. Sul posto anche i vigili del fuoco di Ragusa. Bellia, che abitava a pochi metri dopo il luogo dell'impatto, lascia la moglie e il figlio di due anni. Furti nelle scuole a Comiso. Un giovane romeno minorenne è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento cautelare messo dal tribunale per i minorenni di Catania. Il ragazzo è accusato di fare parte appunto della banda sgominata nel gennaio scorso e dedita a questi furti. I militari della stazione di Comiso hanno eseguito sabato pomeriggio un provvedimento di custodia cautelare messo dal tribunale per i minorenni di Catania nei confronti di un cittadino romeno minorenne per l'accusa il giovane responsabile, insieme ad altri componenti di una banda, di una serie di furti avvenuti a Comiso tra l'ottobre 2014 e il gennaio scorso, ad essere prese di mira almeno sette scuole, ma anche esercizi commerciali e abitazioni private. A gennaio 2015 i carabinieri di Comiso, nell'ambito dei servizi di controllo predisposti in tutto il territorio ragusano dal comando provinciale, avevano denunciato, a conclusione di un'articolata attività di indagine, nove cittadini rumeni, di cui quattro minorenni ritenuti appartenenti ad un'associazione criminale dedita ai furti nel comune di Comiso. Ne scaturirono svariate perquisizioni che consentirono di recuperare refurtiva per un valore di circa 15.000 euro. La vendita nel mercato illegale del materiale rubato, computer, televisori di ultima generazione ed altro materiale elettronico fruttava ottimi guadagni ai membri della banda, ciascuno dei quali aveva un ruolo ben definito all'interno dell'organizzazione. Il minore arrestato sabato dopo le formalità di rito è stato condotto all'istituto penale minorile di Catania, dove dovrà rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria etnea che ha disposto la misura. Adesso la vicenda del mercatino di Vittoria di sabato. L'ordinanza è stata rispettata e per il sindaco Nicosia merito va dato agli operatori. Intanto da Forza Italia si chiede la stessa determinazione nel contrasto all'occupazione abusiva di solo pubblico da parte degli ambulanti. L'ordinanza è stata rispettata e così sono state rispettate anche le istituzioni e i cittadini. Lo ha dichiarato il sindaco Nicosia in relazione alla chiusura del mercatino del sabato, disposta come è noto, dallo stesso primo cittadino per il ripristino, si legge nel provvedimento, di ottimali condizioni igienico-sanitarie. Va dato merito, rileva Nicosia agli operatori che hanno rispettato l'ordinanza, così come va dato merito alle forze dell'ordine. Nessun merito invece a quei pochi consiglieri di opposizione che pur di raccattare qualche consenza elettorale non hanno esitato a cavalcare offese al decore all'igiene urbana e a sponsorizzare quella parte di operatori che in passato hanno sporcato la città ogni oltre limite e in questo caso offendendo anche il lavoro degli operatori corretti, e sono tanti che ciò non hanno fatto. In quest'ora intanto si registra anche la presa di posizione di Forza Italia il cui presidente di club Riccardo Terranova si augura che adesso lo stesso Nicosia dimostri lo stesso zelo e la stessa determinazione nel contrasto all'occupazione abusiva del suolo pubblico da parte di un centinaio di ambulanti. E il risultato, dice Terranova, è che Vittorio Scoglitti oggi sembra una bancarellopoli permanente, precludendo in molti casi la praticabilità di vie e piazze cittadine. La legalità, sottolinea Terranova, o la si persegue a oltranza, oppure non si è più legittimati a parlarne. Fenomeno randagismo ad intervenire in queste ore a Vittorio Scoglitti anche il MoVimento 5 Stelle che in una nota gradirebbero una città più sicura e cittadini e turisti liberi di passeggiare senza il rischio di dover venire circondati da branchi di randaggi. Gradiremmo che la nostra città fosse sicura e che i cittadini e turisti fossero liberi di passeggiare senza dover temere le mute di cani randaggi che si aggirono intorno incutendo timore. Lo afferma il MoVimento 5 Stelle che, prendendo spunto dalle foto di un quotidiano regionale con le immagini di un branco che si aggira alla stazione ferroviaria, mette l'indice sul deprecabile fenomeno. E tutto questo mentre l'amministrazione comunale non sembra farci caso, dicono i grillini, impegnata a organizzare spettacoli e intrattenimenti vari per gli accoliti più incalliti. Qualche anno fa, ricordano dal MoVimento 5 Stelle, è iniziata la costruzione di un canile rifugio sanitario e, pare che tutto si sia fermato, causa un contenzioso fra ditta costruttrice e comune. Risulta anche di un accordo col canile di Piazza Armerina che dispone di strutture idonee, ma sembra che anche in questo rimedio non abbia funzionato. Si si chiede quindi il perché. Al momento la sola struttura che opera sul territorio è l'Aida, che però è al collasso, lavorando con volontari e pochissimi fondi. Anche lei ha segnalato agli organi competenti la presenza di mute di randaggi in città, ma senza ottenere risposte. Per cui siamo di fronte, sostengono dal MoVimento 5 Stelle, all'ennesimo caso di pessima gestione della città da parte dell'attuale amministrazione comunale. Abbiamo inoltre anche appreso da pubblici manifesti che viene promossa in collaborazione con Aida e LAV la campagna per l'adozione dei cani. Una bellissima iniziativa, concludono i grillini e speriamo che sia fruttuosa. I dipendenti delle ex province domani saranno in piazza a Palermo per lo sciopero programmato dai sindacati e dall'autonomo. Ci sa, da Piazza Verdi alle 9.30 i lavoratori si muoveranno in corteo fino a Piazza del Parlamento, sede dell'Assemblea regionale, dove si terranno i comizi dei rappresentanti sindacali regionali. I sindacati in pratica chiedono l'immediata votazione del DDL che assegna funzioni e competenze, come noto ferma a Lars. Da mesi a rischio ci sono centinaia di posti di lavoro. Ancora una domenica di protesta per residenti e villeggianti di passo marinare Branco Piccolo. Al centro della contestazione, la terza consecutiva, le condizioni in cui versano le due contrade. Per la terza domenica consecutiva le consigliere comunali Sonia Migliore e Manuela Nicita, insieme ad una nutrita rappresentanza del direttivo del Laboratorio Politico-Culturale 2.0, hanno affiancato gli abitanti di passo marinare Branco Piccolo nella protesta sulle condizioni in cui versano le due aree. Secondo i residenti e i villeggianti che hanno proposto diversi interventi, la situazione potrebbe essere risolta senza spendere grosse somme di denaro. Piccoli interventi, insomma, ma che potrebbero fare la differenza. Oggi siamo qui a fare il terzo sit-in di protesta, protesta per accendere il riflettore su questa zona stupenda e che però versa in un degrado eccezionale. Abbiamo detto più volte che non è che cerchiamo la luna nel pozzo, ma per esempio quest'area. Quest'area sarebbe eccezionale per fare quel parcheggio indispensabile che come si vede dalle immagini manca e che poi invece in maniera selvaggia viene fatto proprio al ridosso del mare. Spero che l'amministrazione finalmente si convinca a scendere a questo tavolo di trattativa con l'associazione, con la sovrintendenza perché non è possibile continuare in questo stato. Noi non siamo contro i cittadini e contro la gente che viene qua a Passo Marinaro. E' bene che qualcuno lo capisca perché qua è una zona privata, le strade sono private, serve un parcheggio obbligatoriamente perché non è possibile andare sull'arenile a sostare con le macchine. Personalmente insieme agli altri abbiamo constatato che un intervento in spiaggia da parte del Comune c'è stato, solo che è un intervento che è stato fatto in maniera sommaria e in maniera non efficace perché la presenza di tutte le piccole scaglie di canne sono state rimescolate insieme alla sabbia e lasciate sul posto. Non è stato fatto l'intervento che si sarebbe dovuto fare, cioè dire, quello di andare in maniera peculiare, in maniera precisa, andare a rimuovere fisicamente questi piccoli oggetti che sono fra l'altro pericolosi per chi fruisce della spiaggia. L'amministrazione comunale di Ragusa non dimentichi Santa Barbara e Punta di Mole, soprattutto non si creino lungo la costa cittadini di serie A e serie B e l'appello di Enrico Larosa, esponente di Futurudem, che si rivolge appunto all'amministrazione Piccitto. Anche quest'anno la stagione estiva si avvicina e mentre ci si adopera per imbellettare Marina di Ragusa, un altro importante quartiere, quello di Santa Barbara, anche quest'anno sembra essere stato dimenticato dall'amministrazione comunale. A denunciarlo Enrico Larosa, responsabile Futurudem Ragusa. E' certamente importante, aggiunge la scelta di riasfaltare alcune strade della zona, anche se resta da chiarire la qualità degli stessi interventi, ma i lavori della famosa pista ciclabile che doveva collegare il porto turistico di Marina a Punta di Mola e che doveva essere ultimata entro giugno non sono ancora invece iniziati. L'assessore Corallo ha però detto che l'opera si concretizzerà in via sperimentale nei prossimi giorni. Staremo a vedere. Ma i problemi purtroppo, continua Larosa, non si fermano qui. Spesso le aree verdi, così come le aiuole a ridosso delle strade, non sono curate. Un esempio è la piazzetta di via Camoi, dove l'erba e gli erbusti sono molto alti. Inoltre anche la piccola spiaggia di Santa Barbara non è stata sistemata, ma anzi si è creata una zona pericolosa e sporca, addirittura a rischio frana. A tal proposito, il 27 marzo scorso l'amministrazione aveva predisposto uno studio specialistico della costa. Sono stati fatti questi studi, si chiede Larosa, e cosa hanno riscontrato? Quali le soluzioni? I problemi dunque non mancano, sottolinea, ma giugno è già agli sgoccioli. Auspichiamo che l'amministrazione comunale si adoperi con determinazione per intervenire e offrire risposte concrete a questi cittadini, che ovviamente pagano le tasse come tutti gli altri, ma che poi ingiustamente si ritrovano a dover fare i conti con servizi di scarsa qualità. Il raddoppio della Ragusa Catania se n'ha realizzato in brevissimo tempo, lo ha annunciato ieri nella sua visita proprio a Catania il ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio. L'autostrada verrà completata in tempi brevissimi, affermato Del Rio, e non c'è alcun problema legato all'ANAS, come affermato giorni fa dal governatore Crocetta. A frenare l'ITER ci sarebbero comunque approfondimenti di carattere burocratico richiesti dal Ministero dell'Economia che, però secondo Del Rio, non dovrebbero dilungarsi troppo. Quindi massima fiducia, ha detto il ministro Iria Catania, perché a breve ci saranno importanti novità, novità soprattutto positive. Presentato stamani al Municipio di Vittoria lo spot di promozione turistica del territorio di Vittoria e Scoglitti, che da ieri è in onda sulla rete RAI e dal titolo Vittoria da gustare tutta di un fiato. Si è svolta stamattina a Palazzo Iacono la conferenza stampa di presentazione della campagna pubblicitaria di promozione turistica del territorio di Vittoria e Scoglitti, programmata sui canali RAI già da ieri. A partecipare all'incontro con la stampa il sindaco Giuseppe Nicosia, l'assessore allo sviluppo economico Lisa Pisani, il direttore di Enjoy Life Elio Palazzolo, il presidente di Soaco Rosario Di Bennardo e il regista dello spot Andrea Traina. Diciamo che lo spot ha una diffusione nazionale e la scelta del palinzesto televisivo, degli orari in cui mandare lo spot in onda è stata una selezione difficile, ma alla fine abbiamo votato collegialmente per favorire le fasce di attenzione di un pubblico adulto ma dinamico, di un pubblico che può essere interessato alla bellezza della Sicilia, della nostra città di Vittoria e di Scoglitti, per il mare, per le bellezze architettoniche, per le possibilità di svago, noterete nella sequenza dei frame che l'idea che si dà di una Vittoria e di una scoglitti è un'idea di divertimento oltre che di cultura, oltre che di sole e di mare. Innanzitutto è positivo perché siamo più enti insieme al distretto turistico, all'aeroporto di Comiso, si lavora in sinergia con diverse realtà istituzionali e poi perché penso che sia la prima volta che un messaggio pubblicitario, uno spot promozionale passi sulle reti televisive nazionali con la città di Vittoria. Quello che abbiamo cercato di ottenere con questo spot era una rappresentazione di Vittoria in qualche modo magica che possa attirare possibili turisti in questa città e il tutto è stato fatto cercando di evitare il più possibile qualunque genere di cliché sulla sicilianità e sulla Sicilia. Con le performance intanto di Kurt Rosenwinkel e l'Iconese si è chiuso ieri il terzo weekend del Vittoria Jazz Festival, il primo maestro di chitarra, il secondo leggenda vivente col sassofono, Rosenwinkel si è congedato sabato dalla rassegna musicale mentre Conese si è esibito ieri sera domenica dimostrando tutta la sua classe e bravura al sassofono. Due grandi del jazz mondiale per chiudere la terza settimana del Vittoria Jazz Festival. Con un grazie Vittoria in un italiano apprezzabile, Kurt Rosenwinkel si è infatti concedato sabato sera dal pubblico del festival dopo un applauditissimo bis, frutto di una sola la chitarra. Un pubblico colpito alla fine dalla classe e dalla tecnica sopraffina di uno dei migliori chitarristi al mondo. C'è molte cose dentro la musica, queste due sono solo due cose, però c'è il cuore, c'è l'emozione, c'è la fantasia, c'è la memoria, c'è il sentimento tra gli umani, entro le persone, stare insieme con la gente e anche molte altre cose. Per la gente ascoltare la musica è importante per la cultura in generale. Ieri sera è toccato invece ad una leggenda vivente, l'Iconitz che alla sassofono è subito entrato in empatia col pubblico dimostrando tutta la sua classe. Suoni flautati e morbidi che hanno ammaliato la gremitissima piazza del Riquis che non aspettava altro da settimana. Andare in giro a incontrare tante persone, questo è ancora mio entusiasmo, tantissimo. E ovviamente essere ancora innamorati della musica che facciamo e provare sempre a sperimentare e a fare qualcosa di nuovo. Ovviamente non andiamo in giro a fare qualcosa che non ci piace. Cerco sempre di distanziarmi dagli artisti che mettono in scena un mero tecnicismo basandosi sulla velocità d'esecuzione. Per me il jazz resta una musica che fa dell'improvvisazione e dell'espressione estemporanea il suo punto di forza. Non è la musica. Vittorio Jazz Festival che torna il prossimo fine settimana con l'ultimo atto. Il calcio con i primi colpi di mercato tra i dilettanti siciliani con molte società che si sono portate avanti. Trattativa a rilento invece nell'Interland Ibleo dove il Vittorio è assente e il Modica invece rischia di sparire. Il mercato dei dilettanti siciliani muove i primi passi ma le società più avvedute e con qualche euro in cassa hanno già piazzato i primi colpi raggiungendo l'accordo economico con i nuovi giocatori. Ci si porta insomma avanti per evitare sorprese e così la Cireale sta allestendo una squadra di prima fascia. Lo Scordia non si rassegna e ha presentato una mandata del ripescaggio in Serie D. La Leon si è ingaggiato per la panchina l'ex vittoria Sebi Catania mentre per quanto riguarda Lipparino il Santa Croce ha preso Carmelo Bonarrico come allenatore giocatore. Non si muove foglie invece a Vittorio dove gli argomenti più gettonati sono le cordate in arrivo, la ventilata vendita del titolo, i contributi richiesti dalla società e Dulcis in fundo il contenzioso tra la stessa dirigenza e alcuni giocatori per spettanze arretrate. Come si può notare passano le stagioni ma non cambia l'andazzo del club dove di tutto si può discutere tranne che di calcio giocato, di schemi e di tattiche. In attesa naturalmente che qualche imprenditore o qualche cordata prenda a cuore le sorti di questa squadra sballottata ormai da anni senza pace e si precipita al suo capezzale. All'orizzonte al momento non si vede però anima viva e mentre le pagine regionali dei vari lunedì sport sono scoppiettanti di affari e corpi di mercato, a Vittorio di scoppiettante sono rimaste solo le feste patronali. Vole femminile, promozione strameritata per l'annunziata Volli Chiaramonte che approde in Serie C. 18 vittorie su 20 partite, l'invidiabile Rolino di Marce della squadra allenata Vasaro Corallo che si è giudicato il pass promozione grazie ad una stagione esaltante con due solo sconfitte appunto subite fuori casa e dopo aver rinunciato l'anno scorso alla promozione come migliori terze e aver rifondato la società grazie a Rosanna Paravizzini, le atlete dell'annunziata Chiaramonte hanno centrato l'obiettivo promozione convinte questa volta di poter disputare il campionato di Serie C, un premio questo per delle atlete come hanno rimarcato in società attaccate alla maglia. Siamo a ripiro dei fatti in primo piano. Incidente mortale sabato notte sulla provinciale Ragusa-Santa Croce a perdere la vita un ragusano di 35 anni Angelo Bellia, originario di Licata, con la jeep si è scantato contro un muro. Ennesimo sinistro stradale sulle artiere ragusane, l'uomo viaggiava in direzione di Santa Croce-Camerina quando all'improvvisa all'altezza di contato a Mendolibli è finito fuori strada andando a sbattere contro il muro di cinta di un'abitazione. Un minorenne rumeno arrestato dai carabinieri a Comiso e la ragazza è accusato di fare parte della banda sgominata nel gennaio scorso dai militari d'allarme ai furti nelle scuole cittadine. Ad essere presa di mira dalla banda a ben sette scuole i carabinieri hanno recuperato la refurtiva per un valore di circa 15.000 euro, sia il computer, televisore di ultima generazione e svariato materiale elettronico. L'ordinanza di chiusura del mercatino del sabato è stata rispettata, così il sindaco di Vittorio Nicosia, all'indomani della Querelle che ha visto sabato scorso la struttura con i cancelli chiusi. Nicosia ha dato merito agli operatori commerciali che hanno rispettato l'ordinanza e alle forze dell'ordine. Nessun merito per Nicosia invece, a cui pochi consiglieri di opposizione ha dichiarato che sabato scorso hanno cercato solo di raccattare qualche consenso elettorale. Allarme randagismo a Vittorio Scoglietta, rilanciare all'allarme è stavolta il Momento 5 Stelle che gradirebbe una città più sicura e cittadini e turisti liberi di poter passeggiare senza preoccupazioni. I grillini ricordano anche le iniziative sfumate, il canile rifugio sanitarico lavori si sono arenati e l'accordo con Piazza Armerina di cui non si sa più nulla. Adesso la speranza è per i grillini riposta in una campagna per l'adozione di cani. Ancora una domenica di protesta, la terza consecutiva per i residenti di Passo Marinare e Branco Piccolo. Al centro della contestazione, come sempre, le condizioni in cui versano le due aree. Per la terza domenica consecutiva quindi le consigliere comunali suona migliore malunicita oltre a rappresentanti i laboratori 2.0 hanno affiancato gli abitanti delle due contrade, proposti anche degli interventi senza spendere troppi sordi. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni.